Alla fine dopo tre anni del nostro bel lavoro, ci puliva un locale all'altezza del nostro brand. E' arrivato il momento di aprirci un locale grande, una bella cucina dove riusciamo a studiare in ogni minimo dettaglio le culture dei nostri ingredienti. E' di fare un lavoro più superiore a quello che abbiamo fatto fino adesso.